Un dramma si è consumato nella notte di domenica a Piacenza. Una donna di origini straniere al nono mese di gravidanza si è presentata in ospedale perché non avvertiva più i movimenti della sua bambina. Gli esami diagnostici hanno accertato la morte fetale. La signora si è recata presso il pronto soccorso ginecologico in data ultimo scorso, 3 gennaio, verso la mezzanotte e riportando che da qualche giorno non avvertiva più i movimenti fetali. Ricordo che il 31 dicembre la signora si era recata presso i nostri ambulatori per la presa in carico di routine precedente al ricovero per il parto. In quell'occasione era stata sottoposta ai normali accertamenti di routine, di tampone vaginorettale, i prelievi ematici, ma anche a una rilevazione del battito cardiaco che era presente, fetale ovviamente, e anche a un'ecografia che mostrava una presentazione podalica. Per tale motivo era stato poi deciso di programmare un intervento di taglio cesareo, quindi programmato il parto, allorché appunto la signora poi dopo 3 giorni si è presentata perché non aveva più rilevato i normali movimenti fetali. All'arrivo presso il nostro centro è stata ovviamente eseguita una cadetocografia che ha confermato l'assenza del battito, probabilmente risalente a due o tre giorni precedenti. Che cosa può essere successo? Questo fa parte di un classico caso di una cosiddetta MEF, cioè morte enduterina fetale. Noi sappiamo che la incidenza media internazionale, almeno per quanto riguarda i paesi più evoluti, varia dal 4 al 12 per mille. Mediamente in Italia siamo intorno al 3,5 per mille. Sono sostanzialmente conseguenti in linea generale a tutta una serie di cause materne e anche a volte fetali che portano a una insufficienza acuta o cronica placentare. Secondo l'ASL la donna aveva avuto una gravidanza senza particolari fattori di rischio. Era difficile prevederlo? Assolutamente sì, anche perché la signora è stata seguita presso il consultorio della nostra ASL in maniera assolutamente regolare. Aveva eseguito sette visite e tre ecografie. La gravidanza si descrive e si definisce proprio normo de corsa, cioè senza nessuna patologia intercorrente e non c'era nessun fattore predisponente di rischio che potesse far pensare a un evento simile. Giacomo Biasucci spiega che in questi casi, in Emilia Romagna, l'ASL avvia un'indagine interna per approfondire le cause dell'accaduto. Così come avviene per tutti i casi di morte in duterina fetale o di neonato nato morto, proprio in accordo con questo protocollo e questa procedura regionale, che fa parte della procedura del percorso nascita regionale. Biasucci spiega infine che non c'è nessun legame con gli altri casi avvenuti in Italia, ovvero le cinque mamme morte in sala parto nel giro di una settimana. Direi assolutamente no, tra l'altro anche i cinque casi riportati anche a livello nazionale, credo che neppure tra di loro riconoscono cause simili. Nel frattempo il compagno della donna si è rivolto alla polizia che ha avviato le indagini. Grazie.